Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La goccia fredda situata tra l'Europa centrale e il nord Italia continuerà ad apportare cattivo tempo al centro nord. Il sud e le isole verranno marginalmente coinvolti da questa corrente fredda grazie ad una debole protezione anticiclonica. Le temperature rimarranno miti, ma avremo possibilità di sporadici rovesci su alcune aree. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 4 maggio. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su entrambe le regioni. Dal pomeriggio qualche addensamento più compatto transiterà sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale e della Basilicata, con rischio di precipitazioni solamente sull'Alto Foggiano e Gargano, più sole sul Salento. Dal tardo pomeriggio sera i cieli ritorneranno sereni quasi ovunque. Temperature in aumento soprattutto nei valori massimi, con punte che localmente potranno superare i 25 gradi. Ventilazione debole e moderata dai quadranti meridionali, mari, poco mosso l'Adriatico, mosso lo Ionio. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono, aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Dino Longo, che ci regala questa meravigliosa alba sulle rossissime cave di Bauxite in provincia di Taranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.